LA GESTIONE SEPARATA INPS Se sei un libero professionista senza cassa o appartieni alla categoria di lavoratore parasubordinato, e questo devi saperlo tu, allora devi esserci iscritto per legge. In sostanza, la gestione separata ti promette di accumulare la pensione. E infatti, se sei un libero professionista, devi versare i contributi con una liquida del 26,23%. Se invece sei un lavoratore parasubordinato, tocca pagare tutto a te. Il committente paga i due terzi. E tu il terzo restante. Perché è importante, oltre che obbligatorio, essere iscritti? Primo, per il corretto versamento dei contributi. E secondo, perché potresti richiedere addirittura delle riduzioni di pagamento per casi specifici. Tutto chiaro? Forse no! Facciamoci due chiacchiere, il link è in bio.